Un sabato e una domenica diversi per Pregiato il 13 e il 14 settembre prossimo con la prima rassegna gastronomica pregiatese. Oggi presentata alla stampa questa iniziativa che vede l'intera comunità pregiatese insieme per proporre qualcosa che possa migliorare la qualità della vita in questa frazione. Frazione rappresentata a livello politico amministrativo dall'assessore Clelia Ferrara, assessore alla pubblica istruzione e alla protezione civile e all'agricoltura che ha presieduto insieme al sindaco della città di Cava di Tireni questa conferenza stampa. Buongiorno innanzitutto, io sono in veste oltre che di assessore perché sono anche assessore all'agricoltura e al contratto di quartiere che riguarda proprio la frazione di Pregiato. Ma sono anche nella veste di cittadina di Pregiato perché sono nata a Pregiato e vivo a Pregiato. Abbiamo cercato di realizzare quest'anno queste belle iniziativa con la sinergia un po' di tutti e infatti tengo a ringraziare il comune di Cava di Tireni e la persona del sindaco Marco Caldi che diciamo ci ha invogliati a mettere su questo bel evento e ringrazio l'associazione cattolica San Nicola di Pregiato che lavora sempre per la nostra frazione, il parroco Don Luigi Grimaldi e un po' tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare queste due serate come Lazzaro De Rosa perché domenica sera ci sarà un defile di moda quindi questa sfilata di moda organizzata da lui. Sabato verrà accompagnata da momenti di musica dal vivo con Imma Vitale, con il barzellettista Nicola Bisogno e quindi abbiamo cercato di creare due momenti per dare vita e dare un segnale alla nostra frazione ma anche un momento per unire tutti i cittadini di Pregiato come una grande famiglia perché lo scopo è proprio questo, creare una sinergia, vivere insieme, condividere i momenti belli e i momenti brutti e per valorizzare la mia frazione perché come ha anche detto questa mattina Don Luigi Grimaldi mi sto predicando tanto ma non è per avere dei meriti ma perché la mia frazione merita la frazione più diciamo più antica di Cava dei Tirreni, una delle più grandi e quindi merita veramente una dignità, merita di essere valorizzata e credo che con l'aiuto di tutti e con questa sinergia riusciremo a fare tanto e a far rinascere la frazione di Pregiato.